ciao 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 a tutti 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 e tutte 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 sei la prima prima primissima volta che guardi uno dei miei video mi presento io sono vero wild a s l l l l come state? benvenuti in questo nuovo, nuovissimo video allora per chi non avesse letto mi scuso in anticipo ma avevo promesso che da settembre avrei seguito la mia programmazione di due video a settimana ma con il nuovo arrivato con i mille cambiamenti mi viene veramente difficile ma ci provo magari alcune settimane saranno due alcune settimane sarà solo un video ma mi mi viene difficile perché perché con questo terremoto in casa ho il mio cagnolino che ha un'energia pazzesca ok dorme adesso sta dormendo non si vede però è perché è dietro al microfono comunque sta dormendo lì per terra dorme pochissimo è strano perché solitamente i pupi dormono un sacco lui dorme tipo venti minuti ed è carichissimo ma detto ciò comunque cercherò di fare il mio meglio per insomma postare video e nel caso in cui non ce la facessi mi scuso anche perché non sto salutando i miei abbonati all'inizio del mese che saluto tutti come sempre siate liberi di di scegliere se abbonarvi o meno nel senso che anche se volete abbonarvi per un mese o se siete abbonati da tanto e vedete che comunque non riesco a darvi contenuti extra appunto per il periodo sentitevi sempre liberi di distire l'abbonamento non voglio non voglio né che voi vi sentite diciamo rubati perché comunque con 1 euro e 99 mi sembra potete appunto supportarmi ma comunque già guardando questo video mi state supportando e vabbè supportandomi con 1 euro e 99 abbonandovi al canale appunto io prometto dei video extra delle anteprime i saluti appunto all'inizio del mese e i bloopers magari anticipo e qualche spezzettone della mia vita magari videoricette e queste e quant'altro però appunto in questo periodo non sto postando contenuti extra intanto passano aerei perché vicino qua c'è l'aeroporto a 20 minuti scusate e e niente quindi sentitevi sempre liberi di fare quello che volete detto ciò sto chiacchierando tantissimo come al solito ma io so che vi piace il suono della mia voce e ho cambiato lo sfondo sto sperimentando doppio angoli della casa e ho visto che il video dove facevo i suoni dove non c'era la mia faccia vi è piaciuto un sacco quindi magari riproporrò riproporrò quel format nei commenti sentitevi liberi di darmi idee ne ho tantissime ragazzi ne ho tantissime soltanto che appunto ci vuole devo trovare del tempo e della pace soprattutto sto ancora a tormento grazie a Dio e in questo video faremo un po' di brushing e faremo un po' di suoni con gli aromi del caffè che adesso vi spiego niente penso di aver dato tutto le mie intro sono sempre lunghissime e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto è importantissimo per me e per tutti noi così cresciamo insieme allora 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 direi di iniziare con un po' di brushing così magari continuo anche un po' ad aggiornarvi però adesso parliamo un po' più nettamente come sempre mettiti in un posto tranquillo di casa tua o se sei da un tuo amico hai bisogno di dieci minutini di relax trova un posto tranquillo sereno e appunto godi godi di te stesso è molto importante viviamo tutti una vita molto o intaffarata frenetica ma è molto molto importante ritagliarsi degli spazi per se stessi e può essere fatto in tantissimi modi può essere fatto guardando un video smr o facendo dello yoga una passeggiata leggendo un libro made portando a spasso i cani insomma manca solo per esempio facendovi una pennichella di pomeriggio bevendovi una tisana rilassante mentre guardate una serie tv o perché non gelato ritagliatevi sempre, sempre, sempre spazi per voi stessi e ultimamente lo sto facendo appunto dedicando tutte le mie attenzioni al cane e godendomi lui è diventato il mio sfogo del gioco si la vuoi si il Grazie a tutti. 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 Patate, Grazie a tutti. 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 tutti. no... tutti. 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 buonissimo. è una droga. e vai. cedro. che non è... quindi, quindi, e direi di fare... questo. buono. questo, che buono. è buono. è super floreale. cazzo. secondo me. e... e... che in italiano, è... e... 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 positivo. pensiero, e... 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 e...